amici buongiorno oggi trofeo squarna a san marino il blogger è in gara con la te 250 a due tempi iniezione però non parliamo di moto parliamo di come si vive il trofeo squarna quindi ho interpellato un po di amici piloti e ho chiesto di dare una definizione del trofeo trofeo squarna è san marinese non cadere e arrivare fino in fondo una figata trofeo squarna è felicità il trofeo squarna è meraviglioso ci divertiamo moltissimo divertente è magnifico fantastico il trofeo squarna è una meraviglia unione essere liberi fantastico spettacolare è agonismo non sembra me agonismo ora te ne aspetta ti dico è divertente il trofeo squarna è mirabolante fantastico il trofeo squarna è gas il trofeo squarna è multicolor è figo il trofeo squarna è per tutti dal trofeo squarna è tutto se lo sai lo sai ma se non lo sai te lo racconta il blogger alla prossima